Oggi siamo in compagnia di una delle artiste più amate in Italia e non solo, ossia Nina Zilli. Ciao Nina, innanzitutto come stai? Ciao a tutti, molto bene devo dire, non vedevo l'ora di arrivare qui e quando arrivo qui sto sempre a grande. Infatti non è la tua prima volta nel Serento, anzi forse è la prima volta da mamma. La prima volta da mamma sicuramente, sarà la milionesima da turista qualunque e poi tantissimi concerti anche veramente. Credo che in ogni tour che ho fatto il maggior numero di date per tour è sempre in Puglia comunque. E in Salento chiaramente poi in modo particolare, insomma lo amo tantissimo, è un po' la Giamaica d'Italia. Io avendo fatto tantissima gavetta anche nel reggae, insomma nel rocksteady, con Chiaregli Scuri, con un sacco di amici, non posso che essere molto affezionata a questo luogo. E come mai hai scelto proprio il Salento per l'unica data di questa estate 2023 per il tuo concerto? Beh sicuramente per tutto quello che ho detto prima, nel senso che il Salento è stato per Sant'Antonio, al quale siamo tutti molto devoti. No, perché chiaramente come dicevo prima il Salento è un po' la mia seconda casa. Pensa che, dico veramente spesso questa frase, qualche anno fa durante un'intervista una giornalista era convinta che fossi pugliese. Da tanto dico che il Salento è la mia seconda casa, perché d'estate dove vuoi andare, insomma, se non qui è uno dei posti più belli che abbiamo. L'accoglienza è sempre splendida e poi veramente ho tanti amici nella musica, nel settore, da chi organizza i concerti ai musicisti. E quindi mi sembrava giusto tornare a salutare anche solo per un concerto, ma a volte ritornano, quindi ocio. E parliamo appunto di questo concerto in scena proprio domenica, 6 agosto a Monteroni. Parlaci di alcune novità, di alcune sorprese magari. Beh, allora, sicuramente ci sarà una sorpresa che, essendo tale, mi dispiace, ma non vi posso dire perché sennò che sorpresa è. E poi sarà un concerto molto particolare, non avrò la mia solita band, vabbè, a parte Riccardo Di Paola, che è il mio tastierista, che, insomma, non mi molla mai. Ma sarà una band fatta di tutti, di amici salentini, no? Perché, insomma, come dicevo prima, ho avuto una gavetta lunghissima nella musica. Il Reggae Rock City per me, per la mia formazione artistica e musicale, sono stati fondamentali. Quindi, nella Giamaica d'Italia ho preso dei musicisti, che sono anche poi in parte dei cari amici, e non vedo l'ora di condividere il palco e questa festa con loro e con tutti voi. Un'ultima domanda per i nostri salentini. Cosa ami del salento, al di là della musica? Vabbè, lo sul, lo mare Luyentu, il cibo, Sandro, gli amici, l'atmosfera. Davvero, l'Italia è un paese meraviglioso e in questo paese ci sono delle perle che lo costellano come stelle, brillano un po' di più di altri posti e credo che almeno il salento, sicuramente nel mio cuore, fa questo effetto.